Questo è il traghetto di Leonardo da Vinci a Inversago, un'ingegnosa imbarcazione che scivola sulle acque del fiume Adda, sfruttando la sola forza della corrente. Il suo fascino colpì il grande genio Leonardo da Vinci. È sua infatti la rappresentazione di un traghetto del tutto simile a quello di Inversago, nel 1513 sul codice Windsor. Questo è l'unico esemplare ancora in funzione, ma ad oggi il comune fa fatica a trovare persone che lo vogliono gestire. L'unico momento in cui va è quando i volontari pro loco e il sindaco stesso lo fanno funzionare. Ma tu puoi aiutarci a farlo navigare nuovamente con un solo click. Vai sul sito del FAI, Fondo Ambiente Italiano, e sotto la sezione del concorso dei luoghi del cuore, vota per il traghetto di Leonardo. Se ci classificassimo almeno al ventesimo posto, riceveremmo una somma in denaro che potremmo usare per rivitalizzare il traghetto. Basta poco per far sì che lo spirito di Leonardo continui a perdurare nel tempo. Grazie per la visione!